Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera Alina Palmerini, notista del Sole 24 Ore, buonasera Massimo Galli, primario infettivologo del Sacco di Milano e buonasera Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano. Allora, fra protocolli contestati, regioni in ordine sparso, Consiglio dei Ministri sospeso e ripreso oggi più volte e numeri non così confortanti, l'Italia riapre di più a partire dal lunedì prossimo. È inevitabilmente un salto nel buio, subito dopo la pubblicità. Professor Galli, lei ha detto che dobbiamo ripartire gradualmente e che invece sta arrivando il segnale del liberi tutti. Quindi è sbagliato riaprire di più lunedì prossimo. E che cosa deve essere il messaggio all'opinione pubblica? Responsabilità e cautela. Anche perché per come stiamo aprendo adesso le responsabilità individuali diventano un elemento dominante. D'altro canto a decisione presa è inutile utilizzare diciamo così mezze misure. Molte delle attività che rischiano di più di morire e molte delle persone che hanno minore garanzia dal punto di vista del proprio futuro, del proprio futuro lavorativo professionale sono incardinate in attività che sono le più complesse da far ripartire in sicurezza. C'è poco da fare insomma. Paradossalmente è più facile far ripartire in relativa sicurezza una grande fabbrica che un ristorante. E che è un ristorante per molti motivi perché gli spazi sono quelli che sono e per tutta una serie di considerazioni riguardanti anche il modo con cui le persone in un ristorante devono stare. A quanto pare il cibo non è trasmissibile attraverso la mascherina no? Cioè insomma. È certo. È certo. Se uno mangia la mascherina in faccia non la può tenere. Scusatemi questa banalità che rasenta l'idiozia ma in buona sostanza però ripeto abbiamo deciso di intraprendere la via della convivenza con il virus bisogna che con decisione, che con responsabilità, che con attenzione questa via venga presa un po' da tutti con appunto possibilmente le precauzioni del caso. E credo che in questo alla fin dei conti la creatività degli italiani riuscirà a contribuire a una miglior sicurezza nella ripresa evitando magari alcuni dei rischi più banali che si possono correre nel quotidiano appunto di determinate realtà anche lavorative limitandole al massimo anche se non nascondo che avrei preferito che su alcune cose ci fosse stata una maggior proattività e una maggior sperimentazione prima piuttosto che sperimentazione durante o dopo dal momento in cui si è decisa di aprire. Ecco, però adesso ci arriviamo a questo punto Antonio Padellaro perché evidentemente non si poteva più aspettare. Su questa fase 2 bis il Premier Conte si sta forse giocando tutto prova ne è anche oggi il Consiglio dei Ministri che è stato più volte sospeso, i contrasti con le regioni. Insomma è un negoziato molto difficile e comunque si doveva arrivare a riaprire molto di più lunedì prossimo. Allora non solo è difficile ma anche complicato da descrivere perché non so se sarò all'altezza del compito perché qui abbiamo le regioni che per tutta la mattinata hanno litigato tra regioni perché c'era chi voleva l'uniformità delle linee guida per tutte le regioni e chi invece diceva no, dobbiamo distinguere tra regione e regione. Alla fine si sono messe d'accordo, si sono messe d'accordo ed è cominciato il contenzioso con il Governo perché dovrà essere approvato quando si riunirà il Consiglio dei Ministri il decreto quadro sulle riaperture. Allora lì sono state contestate alcune misure, è stato detto ma perché in fabbrica deve esserci un metro di distanza mentre cinque metri nelle spiagge? Poi ci sono quelli che hanno parlato dei problemi che hanno i ristoranti e i bar dove la distanza deve essere di 4 metri. Dopodiché si è affrontato il tema che è un tema vero, pressante, dei protocolli dell'Inail che addirittura impongono al datore di lavoro, diventa il datore di lavoro responsabile se il lavoratore si ammala come se il contagio potesse avvenire soltanto in fabbrica o sul luogo di lavoro e non in famiglia. Attenzione che qui ci sono problemi che riguardano responsabilità civili e penali gravissime. Da quello che si capisce l'unico punto che è stato concordato è stata la firma da parte di Conte dell'accordo con le confessioni religiose per la riapertura le altre confessioni religiose oltre a quella cattolica per la riapertura lunedì. Lilli mi permetti se esprimo la più ampia e sentita solidarietà a Presidente del Consiglio Conte che si trova a dover gestire una babele di richieste, di interessi, di pressioni che è incredibile. Lo so che questa mia frase verrà accolta male dai nemici di Conte ma porca miseria li vorrei vedere loro al posto suo. Lina Palmerini anche tu ti senti di essere solidale con il Presidente del Consiglio perché è vero che i problemi, le difficoltà sono tantissimi e lui si sta giocando una partita molto importante. Questa è la prima questione. La seconda è che la verità forse è che come ci ha confermato peraltro il professor Galli che la pandemia non è per niente finita ma che bisognava riaprire perché l'economia non regge più. È così? Sì, è così. Io credo che tra l'altro sia una sfida che riguardi tutti i paesi, non soltanto l'Italia e non soltanto Conte. A questo punto va trovato un modo di convivere con il virus, quindi un punto di equilibrio tra le esigenze economiche, la tutela della salute e la ripartenza in sicurezza come diceva il professor Galli. Io mi sento di essere solidale con Conte però mi sento di essere anche esigente nel senso che Conte si gioca secondo me due partite. Una che riguarda più strettamente la capacità di governare che è una cosa che vorremmo vedere. Parlava prima Antonio Padellaro del fatto che c'è un Consiglio dei Ministri e con le regioni che litigano e il governo che litiga con le regioni. Vorrei ricordare che la riapertura è il 18, quindi tra poche ore e credo che si sia arrivati un po' troppo a ridosso di questa scadenza, un po' troppo in ritardo, senza citare poi tutte le peripezie che ci sono state sul decreto rilancio. Io credo che sì, la solidarietà va bene, ma serve anche cambiare un po' il passo delle decisioni. Servono decisioni più veloci, non soltanto per rendere fruibili per le persone, per le famiglie, per le imprese e per i lavoratori le misure decise dal governo, ma credo che anche il virus e i contagi richiedano una velocità di decisione, anche una capacità adattativa nel prendere le decisioni. Tra l'altro io mi chiedo, ma un decreto rilancio con 250 articoli, ecco la pubblica amministrazione sarà capace di assorbire questa mole di norme e sarà capace appunto poi di distribuirla ai cittadini. Io credo che un'emergenza sia quella della pubblica amministrazione che in tempi ordinari è un problema, adesso diventa il problema. Credo poi che Conte si giochi anche un'altra partita che è una partita più politica, cioè lui ha bisogno di avere una coalizione più coesa, fino adesso non abbiamo visto questo, anche sul decreto rilancio abbiamo visto un'attitudine più da campagna elettorale dei vari partiti, chi piantava una bandierina, chi minacciava le dimissioni, chi minacciava di sfiduciare il ministro Bonafede. Io penso che sia urgente per Conte e anche per i leader della maggioranza dare una prospettiva a questa coalizione, puntellarla, perché non è pensabile reggere una recessione e un calo del PIL che la Banca d'Italia prevede sarà del 9% con una coalizione divisa, cioè se si litiga nel momento della distribuzione di 55 miliardi, quando arriva all'altra faccia della medaglia, quella brutta, cioè l'impatto sui conti pubblici, il debito, il crollo delle entrate fiscali. Che succede? Il fatto che non ci sia una maggioranza alternativa non è di per sé una garanzia di tenuta di Conte, quindi credo che bisogna fare un punto anche sull'alleanza, trovare un metodo. Rapida replica Antonio Padellaro, perché quando dice Lina Palmerini che ci servono decisioni più veloci, coalizione più poesa... L'ha detto Lina Palmerini nell'esporre i problemi che sono reali e da sottoscrivere nella loro denuncia, dice anche che perché c'è stato questo ritardo? C'è stato questo ritardo perché Conte non è il dittatore del libero Stato di Bananas, deve purtroppo fare i conti con una maggioranza che, come ha detto Lina, non si è dimostrata più attenta al consenso che non ha il buon senso. Allora, io credo che certamente Conte ha i suoi limiti, avrà fatto i suoi sbagli, ma ci sarà tempo, speriamo di avere tempo per denunciarli, ma è mai possibile che la maggioranza, ma anche l'opposizione, non si rendano conto di quello che stiamo dicendo, che occorre fare presto? Ma come si fa a fare presto se un accordo della sera prima, vedi quello sui braccianti, viene poi rimesso in discussione la mattina dopo? Quindi sì, anche questo è vero ed è molto problematico. Professor Galli, lei si sente solidale con il Premier Conte? Guardi, dovrei per forza sentire solidale con chiunque in questo momento dovesse tenere in mano il bandolo di questa matassa. Ecco perché, professore... Io mi auguro soltanto che... Professore, aspetti, perché aggiungo, ricordo quello che lei ha detto, professor Galli, perché lei ha detto che non esiste nella letteratura scientifica mondiale l'uscita da una pandemia ancora in corso solo con mascherine e distanza sociale. Sta andando così però in tutto il mondo, no? Assolutamente sì, stiamo facendo una sperimentazione e questo non vuol dire assolutamente che io stia sminuendo il valore di questo importante tentativo. Stiamo utilizzando quanto a buon senso può cercare di aiutare in una situazione di questo genere, senza che esista un mezzo dato scientifico a provare che questo debba funzionare in assoluto. E allora la morale qual è? Non sappiamo se funziona e quindi chi se ne importa o invece proprio per cercare di fare funzionare questo esperimento così importante cerchiamo di utilizzare tutti il massimo della responsabilità dell'attenzione. Anche in questo caso la seconda. Cioè, attenzione, è la vita di tutti quanti noi che in qualche modo è in gioco in termini di qualità per molti, soprattutto per i più anziani, anche in termini di quantità, voglio dire, no? E in termini di validazione di una via per tentare di portare il Paese di nuovo ad una condizione di produttività che consenta la convivenza con un'epidemia che non ha voglia di mollarci. Abbiamo potuto fermarla soltanto mettendo tutti in casa. L'abbiamo fermata ma non l'abbiamo abolita. Abbiamo il problema in linea di prospettiva della possibilità anche di nuovi ritorni anche dall'estero perché c'è mezzo mondo che è nelle condizioni nostre e qualcuno sta andando ancora sulla rampa ascendente, non come noi che se non altro eravamo arrivati a un plateau e a una rampa discendente. Questo è un dato fondamentale. La responsabilità di tutti è fondamentale. Ripeto, qualche deciso intervento in più sul versante della diagnostica, dell'accesso alla diagnostica, di una diagnostica non limitata alle infezioni e bisogna avere più la possibilità di avere più testi erologici e di conseguenza anche più tamponi per andare a individuare le code dell'epidemia pregressa. Le code dell'epidemia pregressa, cioè le persone che si sono chiuse in casa con l'infezione, devono poter uscire in sicurezza loro e di tutti. Si dovrebbe avere la possibilità e la capacità di andare a vedere come sono messi dal punto di vista dell'infezione, cosa che in realtà è largamente disattesa anche perché molto si è fatto per gli ospedali e per la moltiplicazione, sacro santo, dei letti di rianimazione, meno, ahimè, ed è evidente per quanto attiene gli interventi invece sulla diagnostica offerta più largamente a tutti. Professore Galli, lei ha detto che molti suoi colleghi, molti virologi non hanno mai visto un virus, forse col cannocchiale, che hanno detto un sacco di sciocchezze. Quali sono le sciocchezze più eclatanti e più dannose? Allora io ogni tanto mi lascio prendere la mano e probabilmente più che esagerare non controllo quello che poi è la sintosi del mio pensiero riportata su carta stampata. Ciò è stato in più di un'occasione qualche errore, non voglio adolcire le pillole, ma legato anche al fatto che questa è un'esperienza assolutamente nuova. Ecco, ma qual è l'errore più eclatante? È vero che siamo tutti cosiddetti esperti. Qual è la cosa più fuorviante? Perché questo è il problema, no? Che noi cittadini comuni è stata molto fuorviante all'inizio. Allora, una delle cose di cui tutto sommato mi assolvo è la non sottovalutazione, cioè io non ho mai sottovalutato questa cosa, anzi ho rischiato di incarnare spesso la figura della Cassandra, del profeta di Sventure, dell'uccello del malaugurio. Parte che certamente non amo. Però così è, nel senso che di fronte a una malattia di questo genere non si poteva che essere estremamente cauti ed estremamente prudenti. Ecco, l'unica cosa per cui non si doveva essere prudenti era nella proporre soluzioni importanti, drastiche, procedure di contenimento importanti. Ma per come va a finire o come evolve la prudenza è d'obbligo. Quindi mi scusi, professor Galli, la discussione si è aperta su un fatto decisivo, fondamentale. Alcuni suoi colleghi continuano a sostenere con convinzione che il coronavirus si stia indebolendo. e vogliamo una volta per tutte dire cosa corrisponde a verità? Guardi, lo dicono alcuni anche miei amici cari e che molto stimo. Ciò non di meno mi permetto di drasticamente dissentire su questa cosa. In realtà, stando in un reparto di malattie infettive, stando in un reparto Covid, certamente abbiamo visto una trasformazione dei nostri pazienti ricoverati, ma semplicemente perché siamo appunto alla coda della prima grande epidemia. Abbiamo ancora gente che muore, purtroppo, cacciandoci nella più nera frustrazione. Meno di prima perché il grosso di coloro che dovevano andare male nella prima tornata di infezioni purtroppo c'è già andato. Abbiamo pazienti diversi perché abbiamo una pressione differente, ma è una questione di numeri, di denominatori, di coda dell'epidemia. Abbiamo pazienti che non pressano più come prima il nostro pronto soccorso o le nostre rianimazioni, ma questo è perché abbiamo la fine dell'epidemia, non è il virus che si è attenuato. E poi, viva la faccia, abbiamo imparato a curarli meglio e stiamo riuscendo a curarli prima, quelli che vediamo adesso anche gravi e malmessi. E questo ovviamente implica un decorso meno pesante, ma per poter dire che la malattia si è attenuata, che il virus si è attenuato. Bisogna avere grandi numeri e bisogna avere magari qualche evidenza molecolare sul fatto che il virus ha cambiato faccia anche dal punto di vista delle sue sequenze. E questo non c'è. Ha montato certe mutazioni. E questo non c'è. Non c'è ancora, non ce l'ho neanch'io, ma non c'è questa evidenza. Antonio Padellaro, dall'altra parte continuiamo ad avere, accanto all'emergenza sanitaria, l'emergenza economica, lo abbiamo ricordato. Allora, nonostante il mega decreto rilancio, Confindustria e le varie categorie produttive continuano a criticare moltissimo il governo. Dicono che fa troppo poco. In realtà la vera opposizione al governo Conte sta diventando Confindustria ed è forse anche la più temibile? Ma non è una novità. Sembra che Confindustria, con il suo nuovo presidente, abbia già detto che non era d'accordo su tante cose prima ancora che uscisse il decreto. Io penso che, senza tornare alla vecchia concertazione con la Confindustria e i sindacati, forse il presidente del Consiglio dovrebbe prendere un'iniziativa per dialogare con la Confindustria e anche con i sindacati, laddove fosse necessario. E soprattutto perché questo decreto deve andare davanti al Parlamento, no? Quindi è passibile di miglioramenti, come ci auguriamo. Io credo che già siano cominciate, ci siano dei tentativi di modificare alcune norme, come quella che citavo prima, che in maniera assurda scarica sull'azienda e la responsabilità di un contagiato, come se il contagio potesse essere preso solo in azienda. Detto questo, però, è chiaro che l'obiettivo di Confindustria, da quello che si capisce, era quello di prendere questa massa di risorse e di investirla soprattutto nella ripresa delle imprese, nella crescita di nuovo, nel recupero del tempo perduto. Si è scelta un'altra strada, che è la strada, anche quella, dice, sì, ma sono interventi a pioggia, ma non stiamo assistendo a una catastrofe, a un disastro, che ovviamente ha riguardato 60 milioni di italiani e quindi migliaia di settori. Allora, immaginiamo se il governo si fosse dimenticato di occuparsi di questo o di quel settore, senza scendere nei particolari. Ovviamente ci sarebbe stata una rivolta, quindi è difficile, oggi dire ha sbagliato in un senso o nell'altro. Ripeto, perché il Presidente del Consiglio non prende l'iniziativa e non si mette in un leale, chiaro e sincero confronto con la Confindustria e anche con i sindacati? Certo, perché Palmerini non lo fa e Confindustria è troppo critica, troppo severa col governo in una fase oggettivamente così difficile? Io penso che le critiche siano arrivate non solo da Confindustria, ma da tutte le varie associazioni di categoria e datoriali, quindi non soltanto le imprese, ma anche le piccole, gli artigiani, i commercianti. Oggi leggevo anche Coldiretti che lamenta il ritardo con cui è arrivato il provvedimento sulle regolarizzazioni e i rischi di questo ritardo. Penso che le imprese abbiano un primum vivere, cioè devono reggere l'onda alta di questa crisi economica e quindi rappresentano legittimamente i loro interessi. In questo sono d'accordo con Antonio Padellaro, nel senso che le associazioni di categoria fanno il loro mestiere, mettono sul tavolo quelli che sono i loro interessi legittimi. È il governo che deve poi trovare un equilibrio tra i vari interessi legittimi. In questo senso sono d'accordo con l'idea di ricreare un patto, un'alleanza tra imprese e sindacati. Io mi ricordo negli anni 90 ci fu la politica dei redditi con Ciampi, insomma senza andare troppo indietro. Io credo che il governo e lo Stato non possa fare tutto da solo, che abbia bisogno delle imprese. Cioè se le imprese oggi si pongono il problema della sopravvivenza, è un problema che riguarda da vicino anche il governo. Non è che può continuare con gli aiuti pubblici. Lo Stato non può dare soldi tanti e per tanto tempo. Arriva un momento in cui serve l'iniziativa privata e in questo senso credo sia più utile immaginare un patto con imprese e sindacati piuttosto che una conflittualità sociale in cui ciascuno guarda nel piatto dell'altro. Quindi sarebbe un'iniziativa più che opportuna. Professor Galli, lei ha detto in un'intervista che nasce Sessantottino e non lo rinnega. Le voglio chiedere, c'è un modo di sinistra e uno di destra di affrontare una pandemia come il coronavirus? Secondo me c'è un modo che non può che essere quello basato sul dato scientifico. Quindi mi permetta di dire che tengo abbastanza separate quelle che possono essere mie idee, mie posizioni personali, da quelle che mi derivano da oltre 40 anni di lavoro e di studio su determinati argomenti. Per forza, perché altrimenti vorrebbe dire che invece di partire e combattere, invece di fare una crociata contro i virus o contro i batteri o contro le malattie infettive in generale basate su criteri scientifici, finirei per essere condizionato da scelte ideologiche che non sempre si conciliano con quella che è la necessità oggettiva. Poi, voglio dire, ognuno di noi credo che debba fare i conti con se stesso, con le proprie convinzioni, con le proprie idee e con quello che è la sua concezione di bene e di male. Ma lei lo vedrebbe un suo futuro in politica, professor Galli? Lo vedrebbe un suo futuro in politica? Guardi, io mi sto candidando per la presentazione del Festival di Sanremo. Vabbè, non è serio. No, lei è serissimo ovviamente, ma mi dico una cosa... No, vabbè, abbia pazienza. Sono un signore di quasi 69 anni che ha ancora un po' di cose che vorrebbe fare nella vita. Tanta voglia di cimentarmi nel lagone politico, francamente non ce l'ho. L'ho deciso che avevo 25 anni che avrei fatto il medico in un certo modo e non avrei continuato, e che non mi andava ad andare avanti ad occuparmi in maniera intensiva di politica o di fare il politico militante. E lì è stata una decisione su cui non ritornerò. Beh, allora noi la teniamo cara e caro come virologo, come scienziato. E a questo proposito le vorrei chiedere, scome in serata l'AIFA, l'Agenzia per il farmaco, ha deciso di approvare uno studio sull'efficacia della terapia al plasma contro il coronavirus. È una speranza fondata quella che possiamo sconfiggere il virus col plasma? Guardi, parteciperò volentieri, ho già dato la mia disponibilità alla collega Raffaele Bruno che ha promosso questa cosa, al collega di Pavia, alla costruzione del progetto e all'articolazione ulteriore dei protocolli di ricerca su questo tema. Credo che sia una via importante da cercare di percorrere. Abbiamo ancora bisogno di tante conferme. Allora, speriamo, speriamo bene. Abbiamo parlato tanto del governo stasera, ma abbiamo anche ricordato che Conte, proprio nella giornata di oggi, ha avuto anche grossi contrasti con le regioni, perché sono le regioni le vere protagoniste di questa fase 2 bis. Ce lo spiega bene Paolo Padellaro, tra pochi secondi di pubblicità, il punto. Nei giorni scorsi l'Inps ha spiegato che i ritardi nel pagamento della cassa integrazione sono da attribuire ad alcune regioni che non hanno trasmesso tempestivamente le richieste. Ieri è stato invece il Ministero della Salute a comunicare che 5 regioni non avevano inviato i dati sufficienti per poter valutare lo stato di rischio alla vigilia del rompete le righe di lunedì prossimo. D'altra parte ci sono regioni che accusano il governo di un eccesso di interventismo e altre che lo rimproverano del contrario, cioè di essere stato a lungo assente. Il Presidente del Consiglio è stato criticato sia per essersi fatto vedere in Lombardia sia per esserci andato tardi. La leale collaborazione tra Stato e Regioni, presupposto della legislazione concorrente in materia di tutela della salute, sembra in definitiva una delle vittime della pandemia. Il Centro Studi FB e Associati ha calcolato che a fronte dei 200 provvedimenti adottati in questo periodo dal governo, le Regioni ne hanno varati ben 468, un vero e proprio diluvio normativo. Il governo ha prodotto decreti legge e decreti del Presidente del Consiglio, disposizioni del Ministero della Salute e della Protezione Civile, decreti ministeriali. Le Regioni hanno risposto con le ordinanze, in molti casi efficaci, si direbbe, visto che le Regioni più prolifiche di normative sono state Abruzzo, Toscana, Campania, Calabria e Lazio, che alla fine risultano tra le meno colpite dal coronavirus. Gli autori dello studio ritengono che in questi 100 giorni ci sia stato un imponente stress test del titolo quinto della Costituzione, con il rischio che la divergenza tra provvedimenti nazionali e regionali generasse frizioni in settori di grande rilevanza economica e sociale, come imprese, trasporti, scuole. Da lunedì questo rischio aumenta. Allora, cari spettatrici e spettatori, devo chiedere scusa, perché la pandemia chiaramente mi ha un po' rinco, mi ha un po' confuso, perché ho presentato il punto di Paolo Pagliaro come il punto di Paolo Padellaro. Antonio, Paolo Pagliaro, se siete nei miei cuori, chiedovenia, credo sia un po' la stanchezza. Quindi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io ringrazio Lina Palmerini, Antonio Padellaro, Professor Galli, grazie di essere stato con noi questa sera, grazie spettatrici e spettatori, Linea Diego Bianchi al suo propaganda live e tra gli ospiti ci sarà Corrado Buzzanti, quindi puntata da non perdere. Grazie mille, noi ci rivediamo domani, 8 e mezzo.